Allora, abbiamo iniziato una discussione di là con Paolo Vinicio, se è un film ottimista o pessimista, secondo voi? Questo film? 50 e 50, con della vita. Pessimista. Per me. Lui è ottimista perché vede in questo bambino il futuro, le speranze. Infatti, quando avevo iniziato a fare questo film, ero preoccupato che questo personaggio potesse essere un'anzavorra per il film, con me tutti vorrebbero ridere, pensavo che la mia morte potesse essere. In realtà è quello messo meglio di tutti. Cioè, c'è una bellissima morte, tutti gli amici suoi. Un sogno meraviglioso. Un sogno meraviglioso. Per cui, c'è questo bambino appunto. Sono pure in bianca e nero. Eh, sono pure in bianca e nero. Sì, ho provato a fare la resistenza insieme a qui. Insomma, si rifugia in l'unica cosa che oggi conta sempre, sempre i sogni. Oramai viviamo in un mondo in cui sognare è tutto. E di là invece che hanno detto, che era pessimista? Paolo ha fatto un ragionamento elaborato alla fine. Lo conosciamo. Nell'uno o nell'altro, è a metà. I personaggi sono a metà. E per questo che non li giudichi. E io tante volte mi immagino... Se i bambini dell'elementare li facessi vedere come saranno tra 40 anni, quanti sarebbero contenti di... Di quella visione. Di vedere che cosa sono... Quasi nessuno. Eh, certo. Perissimo. Invece, una cosa che mi ha colpito molto è che se il primo c'era un dualismo politico, qui c'è la polverizzazione politica. Nel senso che ognuno va... E' anche il simbolo della morte politica, in senso che ci sono pochissimi ideali, a parte appunto il giornalista che comunque... C'è la speranza. Le due famiglie non c'è la speranza. Beh, da loro c'è la speranza. Il bambino è l'unico, eh. È il piccolo che tu vedi e che è quello che comunque non lascerà Silvio fino alla fine. Quindi, la speranza c'è. Per cui, ecco, il film non è completamente negativo. Fa questa istantanea di quello che è oggi, per Paolo chiaramente, però c'è speranza, sì. Laura, per te la politica a me mi ha colpito molto l'assenza, tra virgolette, della politica in questa nuova società. Perché alla fine sono tutti un po' dei miserabili, no? Non usano un termine della commedia italiana. Sì, diciamo, non c'è quella... Il primo film era comunque, c'era, da una parte c'era l'ideologia, la convinzione, l'impegno, anche se qualche personaggio un pochino, insomma, svicolava un po', eccetera. Però, e dall'altra parte c'era il qualunquismo, vogliamo se bene, così, insomma, era un po' una cosa così. Quindi c'era questa contrapposizione che era molto più netta. Nel film sembrano tutti un po' così, un po' alla deriva. Non sanno... Vagolano, brancolano un po' nel buio. Non sanno più. L'unica cosa certa, effettivamente, è il sogno. Paradossalmente l'unico faro è il sogno. Il sogno che riguarda il passato, il sogno che riguarda il futuro impossibile, un'utopia. E per il resto c'è questa realtà che è molto, molto confusa, contaminata, diciamo, dove non ci sono più delle convinzioni così nette. All'interno del gruppo Molino, per esempio, ci sono posizioni molto... C'è quello, appunto, che è più, diciamo, verso i Cinque Stelle, quell'altro che è un comunista nostalgico. E' quell'altro che... Suo figlio che è diventato miliardario. Figlio che è diventato miliardario, non si sa... Esatto, apparentemente senza ideali, poi non è diventato miliardario, senza un'etica. Il figlio che però si vergogna, perché ancora comunque porta l'impronta da questo punto di vista. Madre e figlio un po' si assomigliano, il figlio ha avuto successo, però anche il figlio è in una perpetua questua. L'ombra. Anche il figlio chiede l'amore del padre, così come Cecilia chiede l'amore del compagno. Tutti e due dubitano di riuscire in qualche modo ad ottenerlo, insomma, di averlo mai avuto. Quindi... Per chiudere, Cristiano, la tua prima volta con Paolo Virzi, com'è stata? Bellissimo, molto contento, molto felice. La cosa che mi ha colpito di più è che era... Non ero abituato ad essere diretto da un maestro di recitazione come lui. Ultimamente i registi dicono poco, invece lui è uno che ti viene all'orecchio e ti consiglia quello che fare. Un po' come era il mio padre, quindi è stata una gioia. Grazie mille. Grazie a te.